Circa 5.000 chili di miele e di agrumi rubati in due settimane dal 7 al 20 maggio scorsi dagli alveari di Massafra, Palagiano e Castellaneta nel Tarantino. Lo denuncia in una nota il presidente di Api Puglia, Giuseppe Rosini. In particolare sono stati rubati oltre 300 melari e centinaia di favi da melario contenenti il raccolto di miele che le api avevano effettuato durante le fioriture degli agrumi. Le aziende colpite, sottolinea Rosini, provenivano da varie zone d'Italia per sfruttare l'importante fioritura degli agrumeti della piana ionica Tarantina. In molti casi, per compiere i furti, denuncia Api Puglia, i ladri hanno tagliato lucchetti e reti di recensione, abbattuto interi muri con una efferatezza senza pari in tutta Italia. Episodi che si aggiungono agli ormai continui furti e atti vandalici di cui l'apicoltura regionale pugliese è vittima da almeno tre anni, da parte di bande di delinquenti che, denuncia l'api, possono contare sull'appoggio di apicoltori poco onesti. Secondo Rosati è a rischio, oltre alla sopravvivenza delle imprese coinvolte, anche e soprattutto il comparto agricolo regionale strettamente dipendente dal servizio di impollinazione delle api.